Questa? Sì, continua così. L'ultima. Bene, portali qui. Per te. Wow, a Farewell sopravviva ancora la galanteria. Eh, se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi! Oh, 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 oh! Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo qui tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me, te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok. Mi darai ragione. Ma strada facendo, ci fermiamo a prendere una birra. Altrezza, la belta cioè perché... Si, quel staff è bene.. Lo so che la��를 fare in unaнять di una di cui spazere una builità. Yeah, dislike. Yeah, aquí... Grazie a tutti. 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 Non sono informissima. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa, prima che... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda, si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei lacchi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio, proverei di tutto. Affanculo alla lavanda, portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farei un testo. Ah, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capiscimi? Non preoccuparti, Bruce. Andremo a nord e te lo giuro su Dio. Non manca molto. Ok? Ok, chiudo. Dì, mi senti? Ti ho preparato una sorpresa. Ci vuoi passare? Grazie, Luca. Sì, faccio un salto appena posto. Posso salire sul tetto? Potrebbe servirmi. Altre taglie. Sì, faccio un salto appena posto. Sì, faccio un salto appena posto. Sì, faccio un salto appena posto. E tanti saluti. Sì, faccio un salto appena posto. Sì. Sì. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Ehi, Buser. Porca troia! Sai, buffo, stavo ripensando a... Qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e... Mi hai insegnato a preparare un balsamo per le uscure. Ehi, oggi sono uscito, ok? Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo, ok. Questo lo lascio qui. Ehi, dammi un paio di giorni, ok? Poi andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì. 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 Sì.